Qualche giorno fa abbiamo parlato di Airdrop su Cardano e abbiamo scoperto DripDrops, qui su dovrebbe esserci un link al video, dove abbiamo spiegato le caratteristiche di DripDrops, che è una piattaforma di Airdrop, la prima piattaforma di Airdrop che è stata creata su Cardano. Come molti di voi sapranno però, DripDrops non può distribuire tutti i token a via di alcune regolamentazioni dello stato in cui operano e per questo nelle ultime settimane si è vista l'esplosione di altre piattaforme di distribuzione di token. Ciao, io sono Giovanni, anche conosciuto come GiovanniCripto su Twitter e oggi ti parlo di TosiDrop. Prima di continuare però ti voglio ricordare che sono lo Stack Pool Operator della Cardano Stack Pool EasyOne. EasyOne è una Cardano Stack Pool che è stata creata in ottobre del 2020, quindi sono già quasi due anni di operazione. La Pool è configurata professionalmente da me, che sono uno Stack Pool Operator da diversi anni e correntemente ha mintato più di 794 blocchi e vi sono più di 16 milioni di ADA delegati. Se vi piace il contenuto che sto pubblicando su YouTube e volete supportarmi, vi invito a delegare i vostri ADA alla Cardano Pool EasyOne. Grazie. Eccoci qui sulla scremata principale di TosiDrop. L'indirizzo a cui lo potete trovare è tosidrop.io. Mi raccomando, verificate che l'indirizzo sia accurato quando andate sul sito di TosiDrop. A differenza di Drip Drops, la landing page di TosiDrop è assolutamente minimale. Vi sono pochissime cose, potete collegare il wallet e poi di fatto c'è semplicemente la funzione di claim. C'è una funzione di airdrop, ma credo che sia coming soon, infatti. Una form per il feedback a cui potete collegarvi su Discord, su Telegram, oppure potete fare applicazione per la distribuzione del vostro token e poi ci sono i documenti, la documentazione su come utilizzare questa piattaforma. Quindi effettivamente il sito è semplicissimo. Credo che ci sia la versione giorno e notte. Mi dispiace se vi ho abbagliati per un attimo. Quindi vi preannuncio, questo video sarà brevissimo. Per utilizzare la piattaforma è semplicissimo. Si va a prendere dal vostro wallet un indirizzo di ricezione. Eccolo qua. Vado a controllare i miei rewards. E dopo un secondo ecco che appaiono. Ovviamente per alcuni, per esempio per il mio altro wallet, con cui uso per esempio, ho un ADA Handle che è collegato adesso, mi dice che non ho assolutamente rewards. Ovviamente perché dipende da chi delegate. Però per esempio questo wallet qui, che è un po' più piccolino, ha a disposizione 4 milioni di oschi, che utilizzo questo anche per fare una pausa di pubblicità per la mia stake pool. Se voi delegate alla Cardano Stake Pool Easy One, potete partecipare a Ruffles Lotterie ogni 5 giorni. Questi oschi, che sto per ritirare adesso, li metterò in palio nelle prossime settimane se delegate alla Cardano Stake Pool. Basta delegare, andare sul sito ruffles.easystaking.online, ma trovate tutto nella mia biografia su Twitter, lo lascio anche nei commenti, e potete partecipare e vincere ADA, oschi, culo token, che è un token che ho inventato io per la mia stake pool, e anche World Mobile Token WMT. Comunque, ritorniamo a come si utilizza Tosi. Basta selezionare i token, procedere con il Claim My Rewards, e poi si arriva a questa schermata qua. Adesso la prima cosa che dovete fare, perché ho usato un cascato come un fessacchiotto qualche giorno fa, che potete mandare solo e esclusivamente gli ADA per pagare la transazione, dal wallet che avete specificato un minuto fa. Questa è una differenza importantissima tra Tosi Drop e Drip Drops. Drip Drops vi permette di pagare da qualsiasi wallet, e poi i token andranno a finire nel wallet giusto. Questo è un meccanismo di protezione, così la gente non si può fregare i vostri token. Nel caso invece di Tosi Drop funziona leggermente differente. Il tutto funziona se l'indirizzo che andate a inserire, per vedere i token che volete ottenere, è lo stesso da cui poi voi effettuate il pagamento. Non si può pagare da un wallet per ritornare, per ricevere i token su un altro wallet. Se inviate questi ADA, li potete poi ririti... o aspettate due o tre giorni che loro periodicamente li ritornano, oppure potete andarli a riscuoterli, proprio come se stesse collezionando dei token. Quindi, ricapitolando, bisogna pagare dal wallet per il quale volete ritirare i token. Qui ci sono le serie informazioni. Se lo fate da cellulare potete utilizzare il QR token. E qui poi c'è una lista dei fee. I token sono stati di selezione, quindi c'è un riassunto, una sintesi della transazione. Solamente un token, anche se sono 4 milioni. I costi di ritiro sono semplicemente 0,1 ADA. Il costo di transazione è 0,17. Service fee è un altro decimo di ADA. E noi inviamo 1,9 ADA e ci verranno ritornati 1,53 ADA. Quindi potete vedere che effettivamente è super economico utilizzare Tosi Drop. A volte ci sono dei premium fee che devono essere specificati, però ovviamente questa cosa qua verrà specificata nella transazione. Siamo ora pronti per effettuare il pagamento e poi ritirare i token. Quindi seleziono... Ah, posso anche cliccare qui e mi si copia. L'indirizzo è in memoria. Vado sul wallet interessato per la collezione dei token. Vado su send e invio l'indirizzo. Dopodiché premo next. Andiamo a ricontrollare un secondo. Bisogna pagare esattamente 1,9 ADA. Quindi ritorniamo di qua. E specifichiamo che vogliamo inviare 1,9 ADA. Dopodiché si invia next. Ora io su questo wallet qua ce l'ho su ledger. Quindi devo cliccare su sign. E dopodiché collegare il dispositivo e firmare la transazione. Ecco qua. Abbiamo appena ricevuto una conferma visiva che il nostro pagamento è stato ricevo, effettuato e ricevuto. E adesso ritorniamo un attimo sul wallet e attendiamo l'arrivo dei token. Ed eccoci qua. I 4.000 di oski sono appena arrivati nel mio wallet. Sani e salvi. Quindi la collezione dei token su TosiDrop ha funzionato perfettamente. TosiDrop, se vogliamo compararlo a DripDrops, effetto esattamente la stessa cosa. Però il numero delle feature che vengono offerte e anche la quantità di drop che vengono offerte è molto molto differente. Io credo che entrambi questi progetti troveranno ampio utilizzo all'interno dell'ecosistema Cardano. Secondo me la determinante è la regolamentazione. Una nota un po' particolare per TosiDrop è che se comparata con DripDrops è un pochettino la lentezza. Insomma per ricevere i miei drop ci sono passati più di 8 minuti. Anche la stessa notifica di ricezione del pagamento è accaduta dopo 3 o 4 minuti. In realtà non è la blockchain che è lenta ma semplicemente TosiDrop che probabilmente effettua le cose in batch. Quindi periodicamente invece di un sistema un po' più real time. In ogni caso la cosa importante è che il meccanismo funzioni. E che quindi nel semplice giro di 8 minuti ho ricevuto i token che dovevo ricevere. Vi invito ovviamente a mantenere un occhio su entrambe le piattaforme. Poiché come dicevo in precedenza il tutto dipende quale piattaforma viene utilizzata per fare gli airdrop dei token dipende molto dalla legistrazione. Infatti per esempio Ardana che doveva essere fatta su DripDrops in precedenza poi è stata spostata su TosiDrop. E verrà infatti schedulata per domani 23 agosto 2022 proprio perché per problemi di natura legale con DripDrops. E con questo abbiamo chiuso anche per questo video. Vi ringrazio mille e alla prossima. Ciao!